Walter Capacci, presidente del comitato organizzatore, per entrare nel dettaglio di questa corsa podistica, intanto come si chiama e come si svilupperà? Allora, niente, la gara non ha un nome ben preciso, trofeo, donatore di sangue fra Atres e spero che porti tanti atleti a correre qui ad Anghiari. Tu sei un ex podista, un ex atleta, anche se credo che ancora ti diletti con la corsa, come valuti il percorso? Il percorso è sicuramente impegnativo, non come quello della vecchia gara, però si avvicina molto e rassomiglia molto, soprattutto la parte finale sarà selettiva e quindi lì si vedrà veramente la stoffa del campione e quello che arriverà per primo in piazza. 10,8 km non sono pochi? Non sono pochi, se poi si tiene conto che proprio la parte finale è quella più dura, quindi la più difficile e dove appunto farà selezione. Quali saranno le categorie in gara? Allora ci saranno le categorie, la categoria assoluta femminile, assoluta maschile, veterani e argento e poi dopo la gara vera e propria ci sarà la gara dei bambini, quindi quattro categorie di bambini dove anche ci divertiremo lì in piazza con loro. Premi simbolici per tutti, quindi un invito alla gente a partecipare? Premi simbolici per tutti e un grande invito a partecipare ad Anghiari perché la cosa è bella, interessante e con una bella cornice.